La finestra si chiude in fretta, nessuno vuole parlare. Sono chiusi nel silenzio i familiari di Basmad Fal, la diciottenne pakistana scomparsa ormai da cinque giorni. La ragazza che insieme ai genitori e al fratello minore vive a Galliera Veneta è stata vista per l'ultima volta mercoledì al bar della stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. In quest'ora ci sarebbe stato anche un avvistamento. Una donna trevigiana ha allertato i carabinieri dicendo di aver visto una ragazza molto somigliante a Basma nella zona del Montello sulla presa 10 verso il versante della panoramica. La procura ha aperto un'indagine, nessuna pista viene esclusa compreso l'allontanamento volontario. Basma andava a scuola all'istituto Rocco di Castelfranco Veneto. A divulgare la notizia della sua scomparsa è stato il cugino Schaher che vive nel comune della Castellana e che ha lanciato un appello sui social descrivendo Basma. La ragazza al momento della scomparsa portava con sé uno zaino indossava scarpe alte bianche, una maglietta nera con una riga bianca ed è alta circa un metro e cinquantacinque. La diciottenne aveva un cellulare ma risulta spento. Il sindaco di Galliera Veneta dove vive Basma ha provato a contattare la famiglia ma nessuno dei genitori risponde al telefono. Io ho provato due volte a contattarli personalmente però non ho avuto nessun riscontro. La famiglia è già da molti anni che è qui sul territorio, il papà da 2015 e tutto il nucleo familiare dal 2018. Persone che si sono proprio veramente integrate moltissimo bene ma non ha mai dato problemi, anzi averne di queste famiglie. Basma dice il sindaco aveva dell'amica Galliera con cui si vedeva nei parchi cittadini una ragazza molto tranquilla così come la sua famiglia. Dico a Basma che ci sono i familiari e anche la comunità in impressione di ritornare a casa.